Grazie mille di questo invito. Devo dire che mentre arrivavo qui pensavo a come iniziare, quindi a questa domanda come si può risvegliare e recuperare uno spirito civico. Allora mi sono venute in mente alcune cose. Mi è venuta in mente che la prima cosa è che questo è un paese strano, mi viene da pensare proprio a un paese strano, dove sembra che i fatti non esistano e invece non è così, esiste la realtà e poi basta, non solo, abbiamo anche un metodo che è made in Italy, è il metodo scientifico per accertare la realtà, quindi i fatti esistono, sono accertati, accertabili e abbiamo tutti gli strumenti per farlo e questo strumento appunto che è il metodo scientifico che passa attraverso la scienza. È una strategia in fondo che ci espone all'ignoto per agguantare i risultati, per sviluppare anche la consapevolezza di quello che possiamo fare. Direi che forse è un modo di comportarsi nel mondo, di vedere le cose da una certa distanza, quasi per cercare di essere scevri da condizionamenti, ma potendo poi avvicinarsi in modo da poter rifinire le proprie intuizioni. Io sono uno scienziato, ho imparato tantissimo da questo lavoro e dal fatto che davvero puoi imboccare delle strade mai esplorate in precedenza, tante volte, addirittura mai pensate prima e quindi conquistare quei pezzi di conoscenza poi da rendere disponibili, disponibili, pubblici e per tutti. Io ho quest'idea della scienza, non penso affatto che la scienza sia un qualcosa che debba restare all'interno dei laboratori, penso che non debba essere solo appannaggio dei laboratori e viceversa, credo che sia fondamentale che la scienza renda conto sempre alla società e anche alla politica di quanta forza e anche di quanti valori sia portatrice, anche dei rischi del fare, ma anche della capacità di non accettare il non fare, anche la capacità di affrontare i dubbi senza crogiolarsi nei dubbi. Il rendere conto per me non solo è un dovere ma è soprattutto un piacere, questa vita mi ha dato un po' di conflitti che mi hanno portato più volte a rivedere ciò che stavo facendo per individuare argomenti a favore o contro, ma sempre senza nessuna paura. È ovvio che tu hai un'idea, ti innamori della tua idea, ma sai anche che può essere sbagliata e quindi io sono in ogni occasione pronta a sedermi dall'altra parte del tavolo a patto che mi vengano messe a disposizione le prove che sedersi all'altra parte del tavolo sia giusto. Queste sono le sfide, sono tantissime gli ambiti scientifici, ma non solo. E alla fine cosa ottieni? Ma alla fine mi viene in mente che c'è solo un risultato, che è quello che si adatta meglio ai fatti di quel momento. La scienza permette di accertare i fatti qui e ora e quindi ti permette di scrivere le pagine della conoscenza di domani che verranno poi rifinite dopo domani. Ma attenzione non è che dopo domani il fatto che vengano rifinite significa che tutto cambierà, che quindi la scienza non è affidabile perché non è che dopo domani il sole comincerà a girare intorno alla terra perché si studierà di più o la legge di Gavrità sparirà. La scienza è indagine continua e ci spinge continuamente verso il rifinimento delle nostre idee e appunto ad esempio non succederà mai nonostante indagheremo in mille direzioni che scopriremo che i neutrini possono viaggiare in galleria da Teramo a Ginevra. Questo proprio nessuno lo scoprirà. Ecco perché dico forse ci può essere qualcosa di buono che la scienza può dare alla politica, no? Forse la scienza può essere un alleato della politica perché è scevro da condizionamenti o meno la vera scienza è così, cambia le rotte a prescindere da chi sia il timone disinteressandosi totalmente dei nomi, delle appartenenze, delle simpatie, delle preferenze ma con dei punti fermi come stelle polari. Guardate che io non sto dicendo che la scienza è tutta la verità ma anche e soprattutto perché non ha bisogno di esserlo, è solo un metodo e non credo neanche come dicevo prima che la scienza possa bastare a se stessa, per me la scienza è compiuta nel momento in cui riesce a entrare nei percorsi di crescita culturale e civile di un paese oltre che nei suoi percorsi economici. Crescita però non staticità indolente o paurosa, scusate se mi permetto ma penso che anche la politica non possa bastare a se stessa o essere assolta quando schiva o devia le sue responsabilità. Alla politica certamente spetta l'ultima parola, è una supremazia che nessuno credo possa smentire ma attenzione che il vocabolario è pieno di parole alcune sono usabili in modo veramente disarmonico, adattamento, convenienza, manipolazione, altre sono semplicemente orribili, falsità, codardia, demagogia, populismo, tutto all'antitesi del vero. Quindi venendo qui e siccome una domanda era come si recupera uno spirito civico, io sento veramente un estremo bisogno di vero, sento veramente che bisogna ricordare che i fatti esistono e che sono accertabili. Quindi certo che voglio l'ultima parola dalla politica, sono un cittadino, sono uno scienziato, sono anche membro di un Parlamento, io farò di tutto per aiutare affinché quest'ultima parola sia quella che si pensa possa essere quella giusta. È ovvio anche però che c'è diffidenza, non possiamo nasconderlo, se posso dirlo, fuori dalla politica si fida poco della politica, dentro la politica ci si fida poco della scienza, quindi c'è questa diffidenza reciproca. Forse è il momento appunto di pensare che stiamo anche perdendo tantissimo terreno e io appunto quello che vorrei fare è proprio cercare di unire queste due attività, quella di scienziato e quella che insomma mi è capitata dopo questa inaspettata nomina, il più possibile compatibilmente con le mie forze per diffondere la voce degli scienziati ma soprattutto dei metodi della scienza su una ribalta che in Italia l'è stata negata da troppo tempo e troppo spesso e vorrei davvero immaginare a contribuire, contribuire a immaginare che tra politica e scienza e innovazione possa un giorno sorgere un'alleanza che smantelli queste inutili e ideologiche diffidenze. Come fare a fare tutto ciò? Anch'io usando una metafora usata da Renzo Piano cerco di seminare i miei piccoli semi affinché il Parlamento, i partiti alla politica se vorranno e la società in genere potranno far crescere. Ma ho una regola e la mia regola è di non accettare mai nulla per vero, anzi questa è la regola di Cartesio che di regole ne ha fatte veramente tante e importanti, mai accettare nulla per vero senza conoscerlo evidentemente come tale. E allora insomma bisogna stare attenti perché è importante insomma essere consapevoli che conoscere veramente fino in fondo non è sempre facile sui temi che hanno a che fare con scienza, innovazione e tecnologia che sono i miei temi. I rischi della politica di sbagliare se non si avvicina anche lei alla scienza, all'innovazione e alla tecnologia sono tantissimi. Insomma qui era nata l'idea del Senato anche delle competenze, ovviamente mi riferivo in ambito scientifico, innovazione e tecnologia. Ma un'altra domanda e poi vado a chiudere, io mi chiedo appunto se in questa ricerca di queste regole che non accettino mai nulla per vero, in questa ricerca questo estremo bisogno di vero, a me viene questa domanda, ma chi è il portatore sano nel nostro paese di questa esigenza, quale attore politico sta davvero cercando il vero, quindi chi davvero si sta prodigando attraverso il coraggio di cercare di avvicinarsi alla verità dei fatti per poi discutere dei valori, ma dobbiamo prima partire dalla verità dei fatti. Ne abbiamo di esempi pessimi da fuori, da fuori, da oltre le Alpi, se pensate al caso Stamina questo rivela cos'è il nostro paese, è un paese in bilico tra le competenze e il falso, paradossalmente le competenze le avevamo e si è creduto il falso e chi ha creduto il falso? Ma la magistratura certamente, insomma ci sono anche pesanti critiche alla magistratura, ma le ultime parole della politica, la politica che deve dire le ultime parole, sono state tutte sbagliate, tutte, decreto Balduzzi, l'emendamento 2 bis del Senato, il voto finale del Parlamento a favore di una sperimentazione clinica del nulla, voi sapete cosa vuol dire? Tante altre parole, ultime parole secondo me sono state sbagliate, questa è un'altra tragica, sbagliata parola. C'è una domanda adesso qui che vi vorrei fare, OGM, mi piacerebbe parlarne, mi piacerebbe capire di più insieme a voi o a chi è interessato di voi, mi piacerebbe che si potesse parlare di OGM in Italia, non so perché questo non è possibile, non so perché qualcuno proprio dal PD mi ha detto ma questa è una discussione archiviata, ma la scienza non sta con le discussioni archiviate del secolo scorso, perché non possiamo interrogarci sulla loro possibile utilità, perché non mettere in campo la ricerca pubblica, io non sto parlando di multinazionali, tra l'altro guardate che le multinazionali ovviamente fanno molto per noi, sto parlando di ricerca pubblica, sto parlando di chiederci se è vero che gli OGM sono pericolosi, perché io trovo altre risposte, io trovo che invece noi ci nutriamo indirettamente di OGM da quasi 20 anni, non ci viene detto perché nell'etichetta sul prosciutto il formaggio non c'è scritto, ma quegli allevamenti sono fatti, nutriti da questi OGM, è vero che i geni volano da un OGM all'altro, non lo so, possiamo studiarlo, forse non è così, gli OGM aumentano l'uso degli insetticidi, degli erbicidi, ma com'è possibile che invece noi leggiamo che nell'Europa quasi OGM free si usano sette volte più pesticidi e erbicidi degli Stati Uniti che usano OGM, i contadini che dipendono dai semi degli OGM delle grandi nazionali, ma insomma non dipendono da quelle multinazionali anche per i semi non IgM e poi mi viene da dire una cosa, voi siete un partito di sinistra, ma perché dovremmo basarci solo su un'agricoltura non sostenibile che produce troppo poco rispetto alle necessità e crea prodotti di nicchia, perché curare solo il biologico che rappresenta il 2% del panorama agricolo, non è come badare solo a quel 2% di italiani che si veste in Kashmir senza preoccuparsi che il resto, il 98% abbia meno lana a disposizione. Possono gli OGM sfamare il mondo? Io non ho le risposte, guardate che io non ho le risposte, ma mi sto interrogando, l'Accademia Pontificia dice che è una strada da perseguire, l'onorevole cortiana con il quale almeno si può discutere, però dice diversamente, gli scienziati, ma io ho sentito il nostro Presidente del Consiglio, il vostro segretario dire alle Camere insomma che aveva ricevuto il plauso del General Manager, della CEO della General Electric, per i nostri grandi ingegneri, ma certo che abbiamo i grandi ingegneri, bravissimi, ma poi non li ascoltiamo, io sento elogio ai nostri grandi scienziati ovunque e continuamente, poi tanto li lasciamo fuori e quel che pensano e dicono proprio ci disinteressiamo, perché gli scienziati si consumano le mani per scrivere di studiare di più, chiedono di studiare di più, non si possono nemmeno studiare gli OGM in Italia e poi ci si gongola quando ci viene detto appunto che abbiamo gli ingegneri migliori e poi li applaudiamo quando se ne vanno e fanno tutte le loro scoperte all'estero. Insomma affrontare costantemente questi temi è quello che voglio fare e credo che tutti debbano fare, qualsiasi partito a maggior ragione, chi vuole avere una leadership nel paese pronti a rivedere le proprie posizioni significa recuperare il senso civico e non sarebbe quindi bello, io dico esaminare in modo oggettivo le prove scientifiche e poi separatamente avviare un dibattito sui valori. Ecco qui l'estremo bisogno di vero, io ho davvero finito quindi il mio auspicio può essere solo uno ed è lo stesso auspicio che faccio ai miei figli, la stessa raccomandazione e ai miei studenti, che è quello di sviluppare il coraggio di cercare la verità sempre e di parlare di vero e non di miracoli, di non confondere la scienza con gli aneddoti, l'ecologia con l'enogastronomia, il coraggio di credere nella svolta che non potrà mai, che potrà arrivare solo se verranno reclutati davvero gli italiani in base a come verranno trattati e informati e anche perché altrimenti se non si fa così chiunque vinca nell'agone politico di un'Italia dalle competenze e dalle capacità misconosciute e rimaste indietro che cosa potrà trarre di vantaggio per il proprio paese e questa è davvero la mia ultima immagine, questo è l'entusiasmo che credo sia ancora da riaccendere anche nei momenti difficili, è tutto qui nelle passioni e nell'ottimismo da riaccendere appunto ogni giorno come se avessimo ancora vent'anni e come se volessimo cambiare il mondo, cosa che in realtà noi cerchiamo di fare ogni giorno nei nostri laboratori. Grazie.